Utilizziamo il termine pixel quasi ogni giorno, soprattutto quando si parla della risoluzione supportata da uno schermo o di quella di un'immagine. In questo articolo vediamo da dove nasce il termine pixel e per che cosa si utilizza nella computer grafica. Con pixel si può tuttavia fare riferimento a un elemento, utilizzato sul web o nel corpo dei messaggi di posta elettronica, con finalità di statistica e raccolta di informazioni sul comportamento degli utenti. Ne parliamo più avanti. Pixel, infine, è una nota linea di smartphone Google basati sul sistema operativo Android. Cos'è il pixel nella computer grafica? Il Pixel Picture Element, spesso abbreviato con la sigla PIX, è l'unità minima convenzionale della superficie di un'immagine digitale. I vari pixel che compongono un'immagine vengono allineati per formare una griglia rettangolare, la loro dimensione e densità è variabile. Ma l'accostamento dei pixel offre la percezione di un'immagine unica. Il primo a usare il termine pixel fu Frederick C. Bill Inslee del Jet Propulsion Laboratory NASA nel 1965, lo usò per descrivere gli elementi delle immagini provenienti dalle sonde spaziali. Prima ancora, però, il brevetto registrato nel 1888 dall'inventore Paul Nipkow ospita un esplicito riferimento a Bildpunkt, l'equivalente tedesco di pixel. Nipkow è infatti considerato uno dei padri della televisione. Il termine pixel è sensibile al contesto, si possono avere pixel su un dispositivo per la visualizzazione delle immagini, pixel trasportati da segnali o rappresentati da valori digitali, pixel in una fotocamera digitale, elementi fotosensori, lo spieghiamo nell'articolo. Sui megapixel e su cosa sono in ambito fotografico, e pixel stampati, in quest'ultimo caso si parla di dots e di dp dots per inch. Ne parliamo nell'articolo su come stampare foto e della differenza con ip pixel per inch, vedere più avanti. In informatica un'immagine composta da pixel è nota come immagine bitmap o rester. L'immagine composita nella sua interezza si ottiene dall'accostamento di tanti pixel con colore o tonalità differenti. Un'immagine Full HD 1080p è composta da 1920x1080 pixel rispettivamente in orizzontale e in verticale per un totale di 2073. 600 pixel. Uno schermo a ultra alta definizione, 8K 4320p, ha una risoluzione pari a 7680x4320 pixel, circa 33,2 milioni di pixel. Ciascun pixel deve essere gestito singolarmente dal pannello del display con una frequenza di aggiornamento, refresh, adeguata così che le immagini siano sempre visibili nella loro interezza e senza sfarfalli. Per formare un pixel si usano alcuni sub-pixel, ciascuno di essi chiamato a rappresentare un colore specifico. I sub-pixel possono essere disposti con uno schema, forma, differente in modo da ridurre al minimo lo spazio tra un elemento e l'altro, massimizzando allo stesso tempo la definizione dell'immagine. La disposizione dei sub-pixel è importante. Vi ricordate dell'effetto sgradevole ottenuto sui bordi delle finestre di Windows con i primi monitor Q di OLED? Il numero minimo di sub-pixel per gli schermi è a colori A3 in modo da gestire correttamente lo schema RGB, rosso, verde, blu. I tre emettitori di luce corrispondenti ai vari sub-pixel offrono la percezione che a essere illuminato sia il singolo pixel a causa della loro vicinanza. Esistono però diverse varianti che utilizzano un numero maggiore di sub-pixel aggiungendo un secondo verde o il giallo per massimizzare la fedeltà cromatica. Una tecnica che fa ampiamente uso dei sub-pixel per migliorare la leggibilità dei testi sullo schermo evitando il tipico effetto di scalettamento conosciuto come aliasing e Microsoft ClearTip. La miscela dei colori assunti dai sub-pixel permette di ottenere una sovrapposizione che porta alla generazione del colore finale assunto dal singolo pixel. Il numero di colori distinti che possono essere rappresentati da un pixel dipende dal numero di bit per pixel, BPP. Un'immagine RGB a 8-bit per pixel offre 256 valori possibili per ciascun canale, 2-8, faccina triste, poiché i canali sono 3, rosso, verde, blu. Le possibili combinazioni sono 256-3 ovvero si possono gestire fino a 16.777. 216 colori. Il numero di bit che contraddistingue ciascun pannello dei display esprime la profondità di colore, gli 8-bit è quindi 16,7 milioni. Di colori esprimibili sono garantiti dai pannelli più tradizionali. Salendo a 10-bit o addirittura a 12-bit aumenta la profondità di colore perché i pixel che compongono il display possono rappresentare una gamma cromatica più ampia e quindi un ventaglio ancora più esteso di possibili sfumature. Nei pannelli a 10-bit ogni canale può gestire 2-10 uguale 1024 valori e ciascun pixel 1024-3 ovvero 1,07 miliardi di colori HDR10. Nei pannelli a 12-bit ogni canale può gestire 2-12 uguale 4096 valori e ciascun pixel 4096-3 ovvero 68,7 miliardi di colori Dolby Vision. In un altro articolo ci siamo soffermati su quanti colori può vedere l'occhio umano. Secondo vari studi, infatti, l'occhio umano sarebbe in grado di riconoscere fino a 10 milioni di colori. Che senso ha, quindi, adottare tecnologie come HDR10 e Dolby Vision con pannelli a 10 e 12-bit se, sulla carta, i 16,7 milioni di colori dei pannelli a 8-bit potrebbero risultare sufficienti? Semplificando molto, possiamo dire che la gestione in bit dei colori non corrisponde a una gamma cromatica che rispecchia la reale percezione dell'occhio umano. Parte delle sfumature che possono essere rese con un pannello a 8-bit non è percepibile dall'occhio umano che ad esempio risulta molto più sensibile nel cogliere le sfumature dei verdi piuttosto che dei blu. Inoltre, una rappresentazione 2D della gamma colore rappresentabile dallo schermo non è sufficiente. È necessario prendere in considerazione anche luminosità e intervallo dinamico. L'altro aspetto fondamentale è quello relativo alla densità di pixel. Esso influisce direttamente sulla qualità e nitidezza delle immagini. Un iPhone 14 Pro ha una densità paria 460p, un Samsung Galaxy S22 425p, un TV Samsung 4K QN700B da 55 pollici 161p, un Samsung 8K QN900B da 65 pollici 136p. La scelta del valore più adatto in termini di densità di pixel è infatti funzione anche della distanza dalla quale si osserva lo schermo. Nel caso del display di uno smartphone, di un tablet o addirittura di un visore per la realtà virtuale o aumentata il valore di P, deve essere necessariamente elevato. A basse risoluzioni e a breve distanza, infatti, ci si può accorgere degli spazi vuoti presenti tra i pixel con l'immagine che risulta poco nitida e sgranata. Per un monitor da PC e per un televisore si può ovviamente scendere a qualche compromesso. In un altro articolo abbiamo visto cosa sono i P e perché sono così importanti. Pixel come leva per le statistiche e l'email marketing. Il termine pixel viene utilizzato anche da amministratori di siti web ed esperti di marketing online per riferirsi a quella tecnologia che consente di raccogliere dati sul comportamento degli utenti. Questo tipo di pixel appare lato client come una normale immagine, impercettibile all'utente, in realtà non appena il browser la carica. Viene effettuata una richiesta a un server remoto che può leggere dati come i seguenti, indirizzo IP pubblico del client stringa. User Agent Carry String inserita nell'URL con il quale il pixel remoto viene richiamato uno dei pixel più famosi in assoluto e il pixel di meta, precedentemente noto come Facebook Pixel. Il pixel, fascina triste, aiuta professionisti e aziende a capire quali azioni eseguono gli utenti, misurando l'efficacia delle inserzioni effettuate sul social network. In questo modo è possibile monitorare da vicino le interazioni degli utenti con il sito web dell'azienda dopo che è stato fatto clic su un annuncio pubblicato su Facebook. Il pixel può essere considerato quindi come un'implementazione più moderna della tradizionale conferma di lettura.